Immagina di guidare nuova Opel Corsa. Interni premium high-tech. Linee dinamiche sportive. Tecnologia tedesca che ti porta verso il futuro. E allora, basta immaginare! Nuova Opel Corsa è già qui. Scegli l'energia che vuoi. Benzina, diesel oppure elettrica. Se non la provi, ti perdi tutto il divertimento. Da 139 euro al mese, sabato e domenica.